Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel quarto episodio di Little Nightmares. Nella scorsa puntata ne abbiamo viste delle belle ed eravamo arrivati in una stanza con una doppia scalinata. E ora andiamo avanti. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un mi piace se questo video vi piacerà e io vi auguro una buona visione. Eravamo arrivati proprio qua. Io direi di salire subito. Ma dov'è Filiberta? Posso entrare? Che cazzo è? Non ho capito, vi passo mio marito. Ho fatto l'idea e salgo qua sopra. Non era questa l'idea, ma va bene. Uh, giochiamo a scacchi? Ma chi è? Ciao. Ma c'è una tipa con una corona che fa la regina legata al pedone. Va bene. Mi dissocio da questa cosa. Mi scusi. Aspettate. Un'idea. Qua c'è. Se la beccavo in testa. Era epico. Allora, la regina è lì. La torre è lì. E qualcosa lì, in alto. Io non so cosa sia, ma che barrotto. Questo lo prendo io. Penso di aver capito. Finalmente, ragazzi. Tutto questo per una chiave su una sedia in un armadio. E un cane che fa la pipì. Io voglio la papera. Me la porto via come souvenir. Ragazzi, abbiamo le chiavi per andare di sotto con la papera. Perfetto. Ma cos'è tutto sto casino? Allora, io credo che... Facendo così... Papera scusa ti travolgo. Allora, io credo che... Ma cos'è tutto la parte di questo? Tu una tua piazza? È il nostro paese. E la tua piazza? Il nostro paese è un'epicata che non si fa. Qui, la mia conoscenza, non si fa. Ma cos'è tutta la mia piazza? Il nostro paese. Il nostro paese. vieni qua anche tu! ce n'è ancora uno? oh ti ho staccato la testa! io direi di no! ma non spingermi schifoso! ma basta! ma anche tu li ucciderò tutti ragazzi non mi stanno sgamando però eh! tutti con le scarpe l'unico piedi nudi sono io! adesso posso passare grazie! arrivederci a tutti è stato bello ciao ciao! non litigate bambini! non si va sui lampadari! non ci si picchia! bambini! no! si è rotta la maschera! oh oh! mi faccio a scherzare il bottone della porta! ci sarà qualcosa? qualcosa di più utile! un vasetto di vetro rotto! un cappio! ragazzi ho un cervello in mano! adesso devo anche scendere ragazzi aiuto! oddio! che schifo! oddio è proprio blablabla! lo lanceremo qua! e quel schifoso me lo porterò con me! oddio! oddio! ma è ovunque sta vecchia qua! io penso sta mettendo delle rane in un vasetto! vorrei passare mi scusi guarda che ci sono cervelli strani! chissà dove va sempre! chissà dove va sempre! che schifo! ma che posto è! che schifo! ma che posto è! shhh! devo salire sul tavolo! ce la posso fare! ce l'ho fatta! ce l'ho fatta! ce l'ho fatta! adesso arrivo di qua! apro la porta! via che apro la porta via! no! non ho aperto la porta! dai! il prossimo! sono finiti? sono finiti? è troppo figo quando porta in giro il martello! ciao zia! ho ucciso anche il secondo incredibile! ciao! sono incazzato adesso ammazzo tutti! ok ce l'abbiamo fatta! oddio! c'è genoveffa! lasciate stare genoveffa schifosi! cosa devo fare? ti liberta! sto venendo a salvarti! ma scoppio ritardato è caduta! ma va bene! genoveffa dimmi che sei viva! ti prego! ti prego! ti prego! ti prego! ti prego! ragazzi! ti liberta è viva! vieni con me! stai bene zia? andiamo! non c'è tempo da perdere! ti liberta aiutami ad aprire la finestra dai! bravissima! andiamo via! ragazzi! prima di entrare nella prossima casa io vi lascio! vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale per supportarmi! di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto! e ci vediamo al prossimo episodio! ciao! 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 ciao!